Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel penultimo episodio della serie americana In mia compagnia, come nello scorso episodio, c'è Plus e Nico87 Buè! Ciao a tutti! Bene, bene, detto questo, io vi ricordo che in descrizione della scheda trovate i loro canali E trovate anche l'ultimissimo video di The Italian Farmer Video di Italian Farmer, situazioni in campo, episodio 3 In cui vado a farvi vedere grano e orzo in maturazione Quindi non perdetevelo dopo questo fantastico video Io e Plus ci troviamo direttamente qua allo shop Perché dobbiamo fare due acquisti di quelli veramente speciali Plus aveva già deciso Cosa? Abiglianti? Oh sì, ma sì! Ma sì, ma totellini! Vada, vada Oh, ma facciamo tutto un episodio in emiliano qualche volta Ma sì, ma va bene Ma come? Oh dai, dai, dico il 37, prova a farmi una frase Devi dire, mi piacciono i tortellini, dai, proprio in Ma sì, ma in emiliano? Ma in emiliano, ma mettici tutti intercari che vuoi Ma sì, ma mi piace i tortellini Ecco, invece il nostro plus come ce lo fa Mi piacciono i tortellini Ma dai, insomma, può starti, può starti anche un po' spento Oltretutto, oltretutto il cappellino della Lely È vestito da... è vestito... di pelle... nera Ehi... ha un giacchetto di pelle nera, ragazzi No, sto scherzando, sto scherzando Che adesso gli proponiamo Dobbiamo prendere due raccoglietrici Due raccoglietrici, ragazzi Un po' Un po' Perché è tardi, bla 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 Se lo scorso episodio era registrato alle 23.15 Questo è registrato a mezzanotte e passa No, 23.30 Dai, però, ma fai infatizzare un po' le robe Dai, proprio, eh Eh, ma così ma infatizziamo le robe Fai vedere, no? Grazie, è l'una di notte, in realtà Bene, stavamo scegliendo le tre Abbiamo dovuto fare un piccolo taglio per problemi tecnici Insomma, non avevo aggiunto la mod, però, vabbè Tortellini Tortellini Comunque, comunque Eh, la mod Mod Lexion 7.80 Eh, versione USA Quindi colorazione Caterpillar Se non sbaglio, giusto? Vabbè Confermate, ragazzi Perché fai? Gisto Ecco Se voi vedete la storia della Caterpillar C'è subito il canale Ma dai, ma che spam Ah, ma aspetta un attimo Quello stavo facendo io, collega Sì Ragazzi, vabbè Dopo vi racconto una roba Quando abbiamo finito sti acquisti Che andiamo al campo Allora Class of Lexion 7.80 Ringrazio tantissimo Un ragazzo che mi ha dato il link Di queste trebbie Non so quanto siano legali Ne Non so quanto siano legali Però, ragazzi Dai, l'ultimo episodio Mettiamole su Al massimo Se c'è l'autore è vero Quelle hanno urbate Le tolgo Comunque metto una citazione In descrizione Così sistemiamo tutto Detto questo Faccio è fatta Class Lexion 7.80 Colorazione americana Che poi ho letto un commento È stata la più votata del sondaggio 66% Poi ho letto un commento Ma figurati se ci sono le classi in America Ma le fanno così Le fanno così, vecchio Le fanno così, eh Cioè, insomma Poi le usa Valentino Rossi C'è il testo ufficiale Non Stig No, Valentino Rossi Comunque sta di fatto che le fanno Le fanno appunto per il mercato americano Così Class logo No, orribile Mi fanno schifo Le decalcomanie E neanche i numeri De calcomanie Senti, che termini Acido desossibonutleic Uh Sì Sì, certo Perché dovete sempre prendere in giro Con le vostre vicerie Comunque Class vario 1200 Non pensavo che la Fendo Forse arrivata Avesse fatto anche Eh no Ha fatto il 1050 vario Ha fatto anche il 1200 vario Ah 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 Una testata Una testata Una testata Te intanto Plus Metti da sopra Al carrellino che ti compro In colorazione Jet Prende il volo Questo Sto attento che In colorazione Jet Prende il volo Attento che parte Ma adesso Dato che Dato che Plus Fa il dittatore Diamogli Diamogli a Cesare Quel che è di Cesare Nel sondaggio 16% New Orleans CR 10.90 16% Case Case Axia Flow Io dico Gomblotto Io dico Che compriamo La Bison Cosa vuoi comprare Io lo sostengo Dai facciamo 10.90 Ok E anche te sostieni 10.90 Nico No no Io la Bison La Bison Ma si anche Ma no No Ma te cosa vuoi comprare La 10.90 La Case No Ma Per me va bene tutto No 10.90 Via Ma è per dopo lamentarsi Quando porti quello che non va bene A casa 10.90 Adesso se vuoi prendi anche la Bison Tanto hai ancora 561.000 euro Sì che li hai fatti te nello scorso episodio vendendo Wow Lo sapete che sto per comprare un'altra barra della Lexion Sarebbe stato qualcosa di abbastanza divertente Visto che già inizio puntata abbiamo dimenticato la trebbia Sì è vero Dai ma tu non devi dire queste cose vecchio Eh Come si dice la ricetta dei tortellini Ma si Ma si guarda che ti chiamo Giovanni Rana Ti fanno produzione di tortellini eh Eh Detto questo Detto questo Sarebbe bello farlo nel più Questo gioco L'accento falsa Falso Falsissimo Al cento Vai al campo 11 plus Eh dove Ah al campo 11 Aspetta che passi il treno Aspetta Un attimo Molto su Ma Ma dove vai Sembrava quasi piemontese Però stavolta Oh no no Plus lo stanno a fare queste robe qua Ma sì ma che robe mi fai Comunque sta di fatto ragazzi Che lui ha il carrellino quello brutto Invece la bellissima cosa di Case e New Holland Che hanno questo carrellino automatico Ottima invenzione Ecco E penso sia anche un prevetto di CNH Comunque detto questo Ehm Pensavamo prima Che è la situazione perfetta Per chiedere una parola in dialetto Abbiamo Un mantovano Che sarei io Un vicentino Che sarebbe plus Gatti Ecco Magna gatti No E un trentino Lassù per le montagne Sì E appunto Insomma Facciamo decidere la plus Una parola in dialetto Senza la R Possibilmente No no Allora io ce l'ho già in mente Però dipende anche dai dialetti Perché io volevo buttare giù una parola Che è incomprensibile Al 90% delle persone No come dire Però poi dipende Cioè Eh dopo devi tradurla eh Esatto no ma dipende anche da voi Perché se beccate una parola nel vostro dialetto Che è Distaccata dal termine italiano E' molto interessante Se poi poi Dai plus Sono farmi queste storie Caevagna Cosa? Caevagna Ah Capezzagna No No Stradina di campagna Cosa? Stradina di campagna Stradina di campagna Sì Ok ok Ma anche da me È vero o male così Ah aiuto Vabbè Dai su inventate un'altra Non è roba più di uso comune No non è di tanto comune Tipo Forchetta Scodella Scodella Forchetta Forchetta No no Forchetta l'abbiamo già fatta insieme a Nico un'altra volta Ah no cavolazzi Facciamo Scodella va bene Scodea Scodea La Scudella Ti ti dici la Scodea Scodea Ma ti sei proprio Veneto allora? No E invece dai cosa dici? Non sapevo Ah da noi è la Scudella La Scodella Ma vedi per noi ci hanno la U Perché su superi monti C'è l'aria fresca che E fanno un look freddo Detto questo vi spieghiamo le nostre trebbie Possiamo partire con una vera Finalmente la prima vera E inedita trebbiatura americana Ah ne hai fatta solo una qua? Plus Dammi quella lexion lì Che la voglio usare io Che così io la faccio vedere Perché è Ok che è nuova anche la La CR Perché non è uguale a quella di tutti i farming Ma è la Re...re...re...re...re...levation Oh my gosh Eh no ma dai ma insomma Mi stavo mettendo in fila Io comunque Giuliano Nico87 Maverick Potete partire Con la vostra Giuliano è quella che Quella con la testata Che deficita di più comunque Deficita Sì sì la tua è deficita È più costosa È deficiente la testata insomma Ok Comunque stavamo anche pensando Che si potrebbe fare una bartelletta Con noi Siamo talmente simpatici Sì qua Siamo partiti tutti storti Che è fantastico Ma no è il campo che è storto Aspetta È il campo che è storto Si sono fermati Si sono fermati tutti Ma anche lì Dai insomma Facciamo un bel trio noi eh Sì facciamo Facciamo un bel trio Beh in questo caso Un quartetto Un quartetto Però Considerando che anche Maverick È Veneto Dobbiamo dire che C'è un Mantobano Un Vicentino E un Trentino Sembra quasi una bartelletta appunto Sì ecco Quello dicevo Ecco Fantastico Che poi comunque Malamente Comunque un cacchio Ma è andata avanti Beh comunque Come si direbbe da me Sì Lei è una bella averta Ovvero È una bella passata Diciamo Sì Non dire E da voi come si direbbe Una roba del genere Che è una domanda Non lo so Una bella passata Una bella passata Sì Una bella passata Ma apertura Proprio per dire Ho fatto un'apertura Una averta No Non avevo miei campi così grandi A dire a verta Ma aspetta un attimo No Metti che hai una porticina Una porta da un metro Ci siamo Sì E tu vuoi spaccare Tirare giù il muro E fai una porta da 4 metri Da me si dice Che bella averta Che bella porta Non fare come quei brutti Tonti Che gli spieghi le cose Ma non capiscono Dai Apertura Che apertura Insomma Dai Non si dice da te Buso No Non ho mai sentito dire Che bella Per cui No Io mi sto chiedendo Ma quanti minuti di registrazione Saremmo arrivati Massimo Facciamo puntata Una mezz'ora Via Una mezz'ora Ma chi è che la monta La carica Poi proprio Mi proponi una puntata Alla mezz'ora Proprio questa volta Che Tu Maverick Facciamo Sì vai dall'altra parte Bene Allora Tu proprio mi proponi Una puntata Alla mezz'ora Ma se vuoi partire Io sono già Ecco Questa E io mi metto secondo E passo al secondo Valentino Rossi Valentino Rossi Possiamo Possiamo Siamo andando plus Siamo due gialli Scuderia Yamaha 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 Che si dice Yamaha No Si dice Che te lo macca Perché T'ha da dentro Sì O schissa È tutto torto O schissa Come l'altra volta Schissa Io mi sa che Arriviamo dall'altra parte E poi ci possiamo Anche salutare ragazzi Non so da quanto sia venuto lungo Però penso che sia sufficientemente È comprensivo di fail Direi proprio Beh no Lascia stare il fail Che ne metterò un pezzettino Non metterò Tutti convinti Siamo partiti Dai registriamo La seconda puntata No Ma che è la mia Comunque Guarda che concentrazione Di pallini Che c'è lì Sembra quando spari Col 12 Pam Guarda Tac Sopra l'11 Siamo tutti qua Tutti qua In compagnia Poi poi Il tolema Che deve Svotarci tutti Ma appunto È Emma Non è ancora arrivato Eh ma è qua dietro Eh non mi venire addosso Però Io Ho fatto la barra nuova Ragazzi Se c'è Se c'è qualche Emiliano Romagnolo Che sia Offendetevi Non so che Tra Emiliani e Romagnoli Vi ho date Però Intendo Non offendeteli Ma no offendeteli Ma che offendeteli Ma no mamma mia Dai Ma che si offendano Cazzi Che roba Che roba E questa parolaccia Che ha detto Plus Non la censura Neanche Come faccio di solo Quale parolaccia Non ho sentito niente Questa è la censura È la censura Per volontà Si chiama Non ho sentito niente Questa è la censura Per volontà Non sarà così Quella mappa Giuliano apri la mappa Giuliano padre Pio Ma adesso vorrei vedere La mappa Ma perché ho letto La mappa io Adesso dai Scaricano Adesso ci giriamo tutti Ci scarica dentro nel carro Che lo riempiamo Ma a caso mai Giuliano scarica sul mio tank No Io scarico sul mio maverick Ma non si può Trovo Non si può Aspetta Aspetta che proviamo maverick Dai voglio fare Scappa Nessuno l'ha mai provato Però Ma maverick Aspetta un attimo Eh no Si può Si può Si può Si può Si può Aspettate 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 No 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 Allineatevi tutti Che così andiamo avanti Aspetta Aspetta Plus Aspetta Ma no Ma che figata Aspetta un attimo Non mettete qui sotto Ecco Maverick Chiudi il tubo E aprilo solo Quando ti Ero che affasso Neanche No aspetta Ti monto sopra No dai Non va Eh maverick E' una mod Probabilmente Per quello Prova Nico dentro Ah perché sono due mod Le nostre Ah dici che per quello Si Allora devo andare secondo Ah quel mio Sono l'unico sfigato Per lo vicinale No dai Allora maverick Capri il tubo Facciamo gli etè Ah no Nico scarica da me Ah si Guardate Ma Jack me l'aveva detto No aspetta un attimo Stiamo fermi Non l'abbiamo mai provato Ah guarda guarda Che E' stupenda sta roba Beh un plauso La Giants Che si è messa Si perché quelle di loro Sono due trebbie originali Comunque E secondo me Se la mia Non avesse avuto Il cassone così alto Si poteva fare Proprio tutti E' una questione di trigger Però il problema E' che Le trebbiacce Le trebbie Quelle che ricevono Si Si riempiono Un po' troppo Carri elettore Via Si ma plus E' già spaccato Tutte le trebbie Si Tu hai Tu hai Milioni e milioni E filamenti anche Delle trebbie Andiamo ragazzi Guarda un attimo Che io sono pieno Perché Nico ma Amigo Mola Zotut Zotut Bene Bene ragazzi Io penso che il nostro Tempo sia finito Ci siamo divertiti No Penso che è stato divertente Almeno per me è stato divertente Ragazzi Non so per voi Ma Anche per me Ho scoperto anche una cosa nuova Che Ecco Vedevo esistesse Giocando si impara Giocando si impara Mi hai deluso Uno con tutto Mi hai deluso Giocatori interattivi per bambini Veramente Veramente Niente È una certa età Sai Hai 200 anni Ragazzi Comunque Non potete interrompermi sempre Ragazzi Cos'è che non possiamo fare Non potete interrompermi Continuamente Interrompe che? Detto questo ragazzi Io vi faccio salutare Da Nico E Plus Ciao a tutti E grazie per l'invito Perfetto Li rivedrete ancora sul canale Sicuramente nell'estate Perché questa serie finirà Nel prossimo episodio E seguitemi su Instagram Per sapere tutti i dettagli Su come accedere All'Unico Alla mega partita Che ci sarà appunto Per come puntata finale Ci sarà una partita su server Con 16 persone Possibilmente Se riesco a raccogliere Più persone possibili Insomma Detto questo ragazzi La serie di conto terzi Si continuerà Li vedrete ancora Sicuramente sul canale Loro due Detto questo Loro vi hanno salutato Vi hanno salutato anche Mavri Che mazzolotrae Giuseppe Che ringrazio Vi mando anch'io Un caro saluto E noi ci vediamo Nell'ultimo episodio Della serie La prossima settimana Mi avete lasciato indietro Comunque Teste a caso Ciao